Per costruire un'Europa equa, più equa, cioè nel solito stato dell'Aspera, lei per sempre, però, il suo discorso, ha diventato una parola importante di Europa, veramente non si è diventata da nessuno, non mi piace, la parola di vita è la cultura e l'economia. Per quanto riguarda l'Italia, grazie alla scuola dell'Aspera, c'è appena di tornare alla forza e alle forze centrale dei dati di acquisto del nostro Paese, un gruppo di attività di nuovo e economico di passaggio. Signor Presidente, bisogna tornare a comprare anche il prodotto di attività della città di Europa. Grazie a tutti.